bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video questo ragazzi è il contest numero 7 che vi avevamo promesso per avere raggiunto il nostro obiettivo di iscritti in questa giornata vi ricordo ragazzi che è molto semplice essere partecipanti del contest cosa devono fare dovete solamente ragazzi commentare qui sotto con una parola ragazzi che appunto la pami via appena accennato la parola è non me la ricordo vogliamo fortnite per android mi raccomando ragazzi vi ricordo che le condizioni per poter vincere il buono da 10 euro sono semplicissime un solo commento e poi dovete essere in live esattamente queste sono le due condizioni grazie e noi ci vediamo presto ciao